buona giornata amici oggi è lunedì 8 novembre 2021 iniziamo di nuovo insieme una settimana con la lettura dei giornali con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino come sempre passiamo a vedere il Santo del Giorno e il Meteo oggi è San Goffredo di Amiens era un vescovo fu contemporaneo di Goffredo di Buglione quindi visse al tempo delle crociate difese il suo popolo dalla prepotenza dei feudatari e contrariamente a quanto fecero altri vescovi che invece si appiattirono al potere ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo come sarà la giornata di oggi una giornata tante quanto perché ci sono molte nubi e frequenti foschie per tutto il corso della giornata ulteriore peggioramento nella serata vediamo la cartina con tante nubi le temperature sono ancora in calo quindi ci avviciniamo veramente all'inverno le prime pagine dei giornali vediamo la sintesi delle notizie che sono contenute all'interno sul resto del Carlino vediamo la fotonotizia dedicata allo sport ieri è andata male per le due principali squadre della provincia la Vis Pesaro e il Fano Calcio si torna sulla terra per quanto riguarda la Vis che ha avuto una sonora sconfitta contro la Reggiana gli altri titoli riguardano la sanità anziani lasciati in barella per giorni è un'allarme che proviene sempre dal pronto soccorso e poi per quanto riguarda l'arredo del centro storico pesarese il centro imbrattato dai writer pessimo biglietto da visita sia per i residenti che per i turisti e poi i lavori pubblici bretella finalmente i lavori a muraglia vediamo che finalmente si inizia la realizzazione di questa arteria e poi per quanto riguarda invece la VL l'infortunio a Jones VL col fiato sospeso per quanto riguarda la sanità il resto del Carlino pone ancora altre notizie per quanto riguarda le vaccinazioni la terza dose da consigli per quanto riguarda la possibilità di effettuarla su lab dal medico di base oppure sul camper vedremo poi le notizie all'interno sul Corriere Adriatico l'apertura è dedicata ancora all'ospedale di Pesaro il nuovo ospedale tra case bruciate e muraglia molto meglio case bruciate secondo l'analisi tecnica dell'architetto Ferri la sanità torna in trincea il titolo di apertura pronto soccorso non è solo un problema di sicurezza ma anche di personale di posti letto le tre notizie riportate a centro pagina il cavalca ferrovia dei Capuccini il comune si affida al tecnico esterno per quanto riguarda Fano invece ieri è stato inaugurato il nuovo centro civico di Cimarra e ad Acqualagna la Ruscella il grande riconoscimento dato a Cedroni uno chef stellare ZTL pronte le telecamere contro i varchi scoperti in via Curiel lamentati transito e sosta selvaggia e diamo dunque un'occhiata all'interno sul Corriere Adriatico a partire appunto dalle telecamere le telecamere ormai servono un po' dappertutto sia a Fano che a Pesaro che in altre località i varchi già sorvegliati a Pesaro nel centro storico sono a otto in via Rossini per quanto riguarda l'entrata via dell'Arsenale, via Spada, via Passeri, via Barese, via Castelfidardo, via Gattoli e via Cataleo in uscita invece abbiamo via San Francesco, via Nathan e via Cairoli gli assessori legati alla sicurezza, al servizio manutenzioni, alla polizia locale insieme a Pesaro Parcheggi hanno raggiunto la quadra e superata l'impasse legata ad un contenzioso su un precedente bando di gara sono pronti ora ad installare le telecamere mancanti nei snodi più importanti, più pericolosi Lavori al Cavalcavia, arriva un tecnico esterno vediamo una immagine dell'uscita del Cavalcavia, dei Capuccini il Comune affida l'incarico di progettazione Valdinocci dice fate presto, Valdinocci è un consigliere comunale della lista Ascoltiamo Pesaro, fratelli d'Italia il Cavalcavia attende dal 2017 la manutenzione ci sono le cole fradice, cemento sgritolato balaustre arruggenite e sotto il ponte escrementi dei piccioni ma forse questo è il problema meno importante e veniamo invece a quelli veramente importanti quello del pronto soccorso non solo la sicurezza tra Pesaro e Fano oltre 70.000 accessi tra le richieste avanzate in Regione i nodi legati alla carenza degli organici e dei posti letto e oggi l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha convocato tutti i direttori dei pronto soccorso della Regione non solo Pesaro e Fano ma anche quelli degli altri ospedali per l'azienda Marche Nord al tavolo di confronto sono chiamati i responsabili Umberto Gnudi del Presidio di San Salvatore Giancarlo Titolo del Santa Croce insieme alla direzione ospedaliera per quanto riguarda almeno la nostra provincia un primo tavolo allargato che l'assessore alla salute ha convocato su istanza degli stessi primari ormai veramente portati alla frutta per quanto riguarda sia il lavoro che la sicurezza di tutti gli operatori e per quanto riguarda invece la diatriba ancora sembra insolvibile tra Muraglia e case bruciate per la localizzazione del nuovo ospedale vediamo che a Muraglia l'impatto sarà pesantissimo e per il traffico due vie sono già al collasso nuovo ospedale l'analisi dell'architetto Ferri case bruciate molto meglio per infrastrutture e dimensioni e qui in queste mappe e questi disegni, queste fotografie vediamo le differenze tra i due siti un'area più grande per quanto riguarda case bruciate più piccola per Muraglia e poi le fotografie con i relativi progetti per quanto riguarda i due siti un'ampia superficie come quella di case bruciate favorirebbe edifici più piacevoli con tanti spazi verdi e poi sul sito di Muraglia evidenzia ferri e dunque ci sarebbe anche l'alto rischio di interferenza archeologica che potrebbe dilatare molto i tempi della realizzazione dei lavori giriamo ancora la pagina e vediamo siamo a Vallefoglia Cedroni nell'ordine della Ruscella stupisce con il tartufo dolce e salato lo chef stellato ha avuto due stelle Michelin è stato premiato ad Acqualagna in questa terra dice c'è un tesoro nessuna differenza con Alba la località del Piemonte nota anch'essa per il tartufo bianco ma Acqualagna non è da meno anzi Acqualagna forse primeggia per il suo tubero che ha un sapore inimitabile e quindi è questa la stagione propizia appunto per sia l'economia che per l'edogastronomia territoriale tra Rossi e Pentastellati è un attenti al lupo e siamo ad Urbino una botta risposta sulla gestione faunistica e le esigenze ambientali un articolo da leggere perché non si sa mai come comportarsi di fronte all'aggressione degli animali che sono quelli che sono aggressivi perché sono carnivori e quindi hanno bisogno anche loro di predare predare spesso animali domestici e invece una attenta difesa dell'ambiente ancora ad Urbino turismo e cultura siamo a zero dure critiche del Partito Democratico e della lista Viva Urbino manca la segnaletica più elementare e non si organizzano iniziative di rilievo persiste secondo Lorenzo Santi Mario Rosati Davide Balducci e Carolina Borgiani l'improvvizzazione fin dall'inizio del mandato non si vede l'ufficio turistico non si è messo mano alla segnaletica adeguata che accompagni il visitatore nei vari luoghi della città una segnaletica importante perché spesso si arriva in una località turistica senza conoscerne la mappa senza conoscere i siti da visitare e quindi se si è già indirizzati fin dalle porte della città si ha un'ampia visione più comprensibile di quello che la città può offrire ricordi vivi ed emozioni vere per Don Adelelmo a 50 anni dalla morte due giorni di memorie del pastore di anime di Fermignano e vediamo appunto quest'articolo di fondo pagina per quanto riguarda la commemorazione qui abbiamo una foto del nipote Augusto Bramante Federici Primario al Sacco di Milano sulla pagina di Fano ecco finalmente il centro civico per Gimarra è una grande festa e ieri si è inaugurato questo nuovo spazio dedicato alla socialità del quartiere ma oserei dire anche per le dimensioni della sala polivalente per tutta la città perché una sala del genere difficilmente la si riscontra anche in centro storico pensate che è più ampia della sala ipogea della Memo ed è dotata delle stesse innovazioni tecnologiche l'opera attesa da decenni contrastata da varie traversie sala polivalente a disposizione di tutti ebbene dopo l'apertura della scuola di Cucurano Carrara inaugurazione del centro civico di Gimarra si colloca dice il Corriere Adriatico tra le maggiori opere portate a compimento dalla giunta Seri un'opera non da poco forse non tanto per quello che rappresenta in se stessa che è già molto importante ma anche per tutte le traversie che nel corso degli anni ha attraversato la lentezza dei lavori il fallimento della ditta la contrattazione con il curatore fallimentare e poi la realizzazione il completamento dei lavori che sono passati a carico del comune insomma una vicenda molto molto travagliata che ancora poi deve essere portata a conclusione perché ora l'amministrazione comunale deve affrontare la realizzazione del secondo piano che per quanto riguarda la muratura è già stato fatto ma deve essere completato all'interno con tutti gli arredi con tutte le rifiniture eccetera quindi un intervento importante per il quartiere e per la città e poi abbiamo un lutto a fondopagina del corriere adriatico addio a Pio Ferri insegnante di ginnastica e di vita si è spento a 84 anni ed era animato da un grande spirito sociale era amante della fotografia era uno sportivo era un insegnante di ginnastica era tante cose soprattutto un insegnante di vita per i giovani i quali hanno trovato in lui sempre un sicuro riferimento una sicura protezione i funerali di Pio Ferri si terranno oggi pomeriggio in Duomo alle ore 15 e sulla pagina di Fano si parla anche dell'olio di cartoceto perché ieri è iniziato la nuova festa per l'olio un esordio bagnato ma fortunato folla a cartoceto segnale di rinascita dopo la sordina dell'anno scorso quest'anno sono arrivati i visitatori anche da fuori regioni il consorzio DOP quantità più scarsa per la siccità ma i prezzi sono invariati la qualità comunque è grandissima quest'anno e pensate che il doge della Repubblica di Venezia teneva molto all'olio di cartoceto e quello che avanzava dalla mensa lo utilizzava per alimentare le lampade uno spaccato di storia che ha destato curiosità in occasione della 44esima edizione della mostra dell'olio DOP di cartoceto e dell'oliva San Lorenzo in campo ma anche il medico di famiglia sono a 1100 le firme raccolte e l'attività in questo senso del sindaco di San Lorenzo il sindaco dell'Onti che chiede ancora il sostegno per una protesta civica in regione mancare il medico di base è una carenza che oggigiorno si sente tantissimo la popolazione la soffre in maniera molto importante pensate di solito si protesta quando viene a mancare un medico in un quartiere pensate in un paese e la gente che è costretta ad andare in un'altra località per farsi curare non usciva dal mattino è stato trovato morto in casa un episodio della solitudine che si è verificato a Mondolfo la vittima è Sergio Buratta 70 anni l'allarme dato perché il cane grattava la porta insomma era una persona abitudinaria nel momento in cui è venuta a mancare una delle sue solite azioni si è capito che qualcosa di brutto era accaduto sulla pagina di Senigallia vediamo un fatto di cronaca Sant'Angelo nella morsa dei ladri la frazione di Sant'Angelo doppio colpo a segno in poche ore i residenti della frazione hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un Audi nera con due uomini il primo colpo è stato messo a segno in una abitazione dove vive una famiglia i ladri sono entrati da una finestra hanno rubato monili bigiotteria qualche soldo in contanti il tutto per un bottino complessivo di mille euro poi si è capito che avevano fatto un altro colpo in un'abitazione vicino e si preparavano ad un terzo furto tentato ma non consumato sempre nella stessa zona nella zona di Borgo Marzi di Sant'Angelo nella stessa serata di sabato insomma una impresa di una banda particolarmente determinata la terza dose di vaccino come regalo per i 107 anni il traguardo raggiunto dalla signora Alba Pongetti festeggiato con i parenti e la preghiera di Don Alto per così per sostenere questa signora anziana che ancora vive tranquilla e ammai assicuro per quanto riguarda il Covid bene siamo ora al resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina ed ora diamo un'occhiata alle pagine interne terza dose tutti i modi per prenotarla al punto vaccinale dal medico o al camper l'Asur mette in rete sia il calendario della postazione mobile che gli orari delle sedi per le iniezioni allora dove fare la vaccinazione per gli over 60 il primo recapito è quello del medico di famiglia insomma ci si può recare dal medico di famiglia ma nel caso in cui il medico non aderisse si può mandare il medico stesso può mandare un'email all'USCA l'unità operativa che farà fare la vaccinazione a casa del paziente arriverà un altro medico e farà la vaccinazione a casa del paziente con la prenotazione si può fare invece la vaccinazione tramite il portale di poste italiane HTTPS poi abbiamo l'indirizzo qui pubblicato dal resto del Carlino si tratta di prenotazioni vaccini covid.gov.it oppure tramite il numero verde 800 00 99 66 tutti i giorni dalle 8 alle 20 terza modalità senza prenotazione si può presentare negli orari di apertura nei tre punti vaccinali della provincia e poi la quarta è quella di seguire le tappe del camper che gira un po' nel nostro territorio si comincia oggi con Fossombrone domani martedì si va a Isola del Piano a Monte Felcino mercoledì a Gabicce nel centro civico Creo Gabicce giovedì a Monbaroccio e venerdì a Colli del Metauro e a Cartoceto una testimonianza importante gli anziani in barella anche per tre giorni no il pronto soccorso così non va avanti parla l'infermiera Marianna Romani di 44 anni che è stata colpita aggredita da quel ragazzo che è andato in escandescenza un ragazzo di 23 anni che è andato in escandescenza al pronto soccorso nei giorni scorsi sferrandole anche un pugno in faccia no così non va ci sono tante e tante cose che non vanno oltre alla violenza nel pronto soccorso che è poi uno dei riparti più importanti dell'ospedale in quanto è la porta d'accesso al nosocomio circonvalazione di muraglia partono i lavori per la bretella il cantiere di marche multiservizi a muraglia per i lavori e la rete del gas prima della realizzazione della circonvalazione fotografati in questa foto pubblicata nella pagina 4 del resto del carlino però il sindaco Matteo Ricci ha confermato la realizzazione della circonvalazione da parte della società autostrade infatti ha appena affidato i lavori alla ditta che avrà 45 giorni per avviare il cantiere e poi il problema dei murales delle scritte vandaliche nei muri della città come detto un problema che Pesaro condivide anche con altre località la denuncia questa volta dell'ex consigliere Alessandro Bettini non cancellandole più ha dichiarato ora in tanti si sentono legittimati a farne di nuove è un po' limitazione che desta a una proliferazione di queste scritte da almeno cinque anni regresso arti non è più chiamata a coprire gli imbrattamenti e questi purtroppo si moltiplicano diabete e controlli scovati nuovi pazienti a Fano domenica di screening ieri al Fano Center i medici individuano dieci pazienti da tenere sotto controllo ebbene ieri c'è stata questa iniziativa importante sono state così controllate 250 persone che hanno accolto l'invito dell'associazione italiana diabetici a volersi bene cioè spendendo qualche minuto del proprio tempo per controllare il proprio valore glicemico un valore che non si avverte cioè quando uno ha la glicemia alta non avverte nulla non ha malesseri non ha dolori però in realtà il suo stato fisico ne risente molto perché poi avere troppo zucchero nel sangue significa avere danni in altre parti dell'organismo ovvero reni occhi e via dicendo quindi è importante sapere il proprio valore glicemico e l'arresto del Carlino dedica questo colonnino poi alla inaugurazione del nuovo centro anziani di Gimarra e invece un articolo più ampio per inaugurazione della panchina azzurra europea che c'è stata l'altro giorno nella zona dell'anfitoatro Rastat a Sassonia una panchina azzurra per avvicinare i cittadini alle tematiche europee rimarcando il valore dell'unione europea c'era era presente il sindaco l'assessore Barbara Brunori Marco Zecchinelli segretario della sezione Maria Maddalena Guasco di Pesaro Fano e poi un personaggio fanese che si sta facendo no che ormai si è fatto da tanto tempo onore all'estero nella Repubblica Ceca si tratta di Davide Mattioli che va in tv per Little Big Italy il cantante fanese trasferitosi nella Repubblica Ceca diventa testimonial in uno show televisivo dedicato alla cucina all'estero del bel paese ed ora passiamo allo sport oggi è lunedì e lo sport è trattato in maniera ampia dai quotidiani vediamo purtroppo le defiance delle squadre di calcio della provincia troppa reggiana Vispesaro trafitta al Benelli vantaggio ospite nel primo tempo con Cautz nella ripresa gli emiliani la chiudono con i bomber Lanini e Zamparo bianco-rossi poco pericolosi purtroppo il risultato non lascia discussioni insomma Vispesaro 0 reggiana 3 il commento di Bianchini hanno fatto gol nel nostro attimo migliore il mister parla anche del manto dello stadio bisogna sapersi adattare da dicembre in poi si troveranno campi da gioco in queste condizioni insomma condizioni molto brutte per giocare l'avversario dice il loro tecnico e tra quelli top della categoria hanno un'ottima tenuta mentale e per quanto riguarda le pagelle vediamo che Farroni nessuna colpa specifica Piccinini e tra i migliori vogliosi di farsi apprezzare la festa in casa emiliana il tecnico Diana la squadra è sempre viva tutti promossi 3 a 0 insomma non è da poco c'è soddisfazione appunto nella squadra emiliana ma l'infortunio di capitano Rozzio mi toglie un po' di felicità ha detto il tecnico devo dire che la difesa si è comportata molto bene invece non si è comportata bene la difesa del Fano Calcio Alma va ancora a K.O. Montegiorgio 2 Alma Juventus 1 il risultato Gioffre va verso l'esonero il Montegiorgio rimonta nella ripresa la rete di Casolla con i Granata rimasti in 10 per l'espulsione di Tortori e Crisi Nera delusione totale in casa Fano oggi è il giorno del giudizio se salta il mister Granata in ballo ci sono i nomi di Magi Angelini e Alessandrini Alessandrini il mago delle rinascite e vedremo che cosa accadrà in questo senso sul sul vediamo sul resto del Carlino se riusciamo a trovare la pagina anzi scusate sul Corriere Adriatico vediamo sulla vis punizione troppo severa la capolista reggiana si dimostra tale ma i biancorossi non hanno assolutamente sfigurato sullo 0-1 la squadra di Bianchini ci ha provato con generosità ma gli emiliani sono davvero molto molto forti una distrazione pagata cara così dice Bianchini invece per quanto riguarda il Fano ormai non ci sono più scusanti il Fano KO è in caduta libera Gioffre ormai è al capolinea terzo successo di fila di Montegiorgio che vince il derby grazie ai gol di De Meio e Spagna e vediamo anche per quanto riguarda la VL che cosa è accaduto nel weekend la VL non ha più margine lo stop di Jones non ci voleva l'infortunio del Pivò è lieve ma sarebbe importante che non saltasse neanche una partita Banchi chiede vicinanza ma sui tifosi pesano anni di delusioni e amarezze insomma tifosi devono essere vicini alle squadre anche se queste perdono e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 per quanto riguarda la rassegna stampa e notizie invece torneranno su Fano TV questa sera alle ore 8.30 nelle TG grazie per l'ascolto a risentirci